Il borgo di Castel Gandolfo si innalza sul crinale di un antico cratere vulcanico, sopra il lago di Albano, uno dei più profondi dell'Italia centrale, che raggiunge i 170 metri. Il prodotto tipico di Castel Gandolfo sono le pesche, che qui vengono chiamate guance di canonico, a cui è dedicata la storica Sagra delle Pesche. La Sagra è un'occasione speciale, nella quale vengono organizzate manifestazioni di carattere culturale, musicale e sportivo. E domenica, in tarda mattinata, si potrà assistere alla benedizione delle pesche da parte del Papa Benedetto XVI, in soggiorno nella sua residenza estiva di Castel Gandolfo. E oggi si sono oggi fiema, signor Gandolfo, a Sagra delle Pesche. Grazie a tutti! Grazie a tutti.